Diana e Roma! Wow! Sorpresa! Wow! Tocchiamo! Roma non è un pallone! Attenzione! Non romperlo! No, no, no! Roma? Dai, dai! Ho un'idea! Quale aprire per primo? Oh! Wow! Diana? Cos'è successo? Mi puoi aiutare? Quale scelgo? Questo o questo? Mi piace il colore rosa! Super! Cos'è questo? Pesce! Ne voglio una rosa come prossimo! Wow! Siete pronti? Diana, Diana, dai, vieni! Un momento! Il gattino! Cosa c'è dentro? Wow! È una tigre! Un elefante! Zebra! Zebra! È la mia magica sorpresa! Il prossimo è blu! Che bel colore! Diana? Eh? Che c'è? Dove sono i miei occhiali? Non preoccuparti, li troverò! Grazie! Non c'è di che! Oh, mamma! Piaccio! Piaccio! Wow! Wow! Super! Bello! Cioccolato! Yummy! Diana, giochiamo! Oh! Wow! Gielatina! Wow! Un po' di pesce! Uh-oh! Sorpresa verde! Cosa c'è dentro? Oh! Wow! Lego? Sì! Sorpresa bianca! Wow! Sorpresa bianca! Oh, lo so! Ragazzi, venite! Oh! Wow! You're gonna be happy! 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 You're gonna be happy!